Il TGN apriamo con il problema Covid perché mancano dosi di vaccino anti-influenzale in Lombardia, secondo la fondazione Ghimbe. Invece la regione Lombardia replica dicendo che è tutto a posto. L'importanza del vaccino anti-influenzale ovviamente perché ai primi sintomi di influenza che sono molto simili a quelli del Covid sarà molto difficile nell'autunno che sta per arrivare distinguere chi è malato di Covid e chi è di influenza. Per questo tutti gli specialisti consigliano il più alto numero possibile di persone di vaccinarsi. Per la fondazione Ghimbe non più del 66% della popolazione potrà vaccinarsi, mentre la regione Lombardia ha parlato del 75%. La campagna per la vaccinazione verrà dal 15 al 25 di ottobre. Sentiamo Alberto Carreras. Dal 15 al 25 ottobre partirà la campagna vaccinali in Lombardia. La fondazione Ghimbe laggia l'allarme. Nella nostra regione le scorte di vaccino anti-influenzale sono sufficienti per non più del 66% della popolazione. Secondo Ghimbe dunque si è lontani dal 75%, più volte ventilato dalla regione come obiettivo dichiarato. I vertici della sanità lombarda replicano che tutte le dosi necessarie saranno consegnate entro la terza settimana di ottobre. Il direttore generale del Welfare, Lombardo Marco Trivelli, ha detto che sono state acquistate 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino, in pratica il 100% in più dello scorso anno. I vaccini arriveranno seguendo i tempi industriali, quindi le prime consegne saranno a metà ottobre. A questa diatriba si aggiunge uno studio dell'Istituto Monsino di Milano che sostiene che il vaccino anti-influenzale potrebbe aiutare a combattere direttamente il coronavirus. Durante il lockdown, nelle regioni col più alto tasso vaccinale, tra gli over 65, c'erano meno contagi e meno pazienti ricoverati con i sintomi da Covid. Si stima che l'aumento di solo l'1% della copertura vaccinale negli anziani sopra i 65 anni può evitare oltre 78 mila contagi. Comunque, complessivamente, il mondo scientifico continua a sostenere che quest'anno è meglio vaccinarsi contro la consueta influenza stagionale, un atto di riguardo verso noi stessi e verso gli altri. Ora vediamo i dati per quanto riguarda il Covid in regione Lombardia. Sono 13.791 i tamponi effettuati e sono 203 i nuovi positivi, la percentuale dell'1,4%. E' molto alto il numero dei guariti dimessi che aumentano di 435 unità. Dobbiamo vedere anche i dati per quanto riguarda le province. Siamo a 82 per quanto riguarda Milano, di cui 48 nella città Milano-Città. 13 a Bergamo, 11 a Mantua, 14 a Brescia, 13 a Monza e Brianza, 23 a Como, 12 a Pavia, 5 a Cremona, 8 a Sondrio. Nessuno a Lecco e sono parecchi perché sono 26 invece a Varese. Per quanto riguarda invece i dati nazionali, sono 1.648, quindi siamo in media i casi in Italia, a fronte di 90.185 tamponi che sono quasi 40.000 in più di ieri. Si temeva il numero di oggi che crescesse proprio perché si riferisce a ieri, che era il primo giorno feriale della settimana, ma per fortuna il numero rimane costante. Sono aumentati però i morti perché sono 24 in aumento rispetto ai 16 di ieri e alla media degli ultimi giorni. Continuiamo a parlare di Covid e di influenza. Andiamo a Parma, quello isolato in un bambino a Parma. È il primo caso di influenza stagionale, ma si tratta di un caso ancora sporadico. L'epidemia non è ancora iniziata. Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come nella stagione compariranno anche altri virus influenzali, ma simili a quelli circolati nelle stagioni precedenti e ricompresi nel vaccino. Quindi ci attendiamo, meno casi. Si tratta di un primo caso sporadico, indicativo per l'avvio della stagione influenzale, ma ci vorranno ancora diverse settimane per l'influenza vera e propria. Adesso passiamo ad Apregliasco al professor Galli, l'altro esperto di Covid, che, perché la notizia è questa, gli studi epidemiologici guidati dal professor Galli coinvolgeranno con una mappatura tappeto anche i residenti di Sordio, in provincia di Lodi, terra di mezzo tra milanese, bergamasco e lodigiano, proprio il crocevia tra queste tre zone. L'obiettivo sarà quello di valutare la siero prevalenza in coloro che hanno contratto l'infezione da Covid, testando fino a 3.500 persone. Sordio, ha spiegato Galli, è una realtà tra due situazioni che si sono rivelate critiche, quella dell'odigiano e quella della bergamasca, ed è anche in prossimità di Milano. Ha una importanza per completare un quadro generale di conoscenze che è importante per riuscire a capire quali siano state le dinamiche per la diffusione del virus. Cambiamo argomento, una protesta infinita, quella degli artigiani che lamentano di trovarsi ormai da cinque mesi senza cassa integrazione. 5 mesi senza cassa integrazione sono tanti, sicuramente troppi. E qualcuno tra i 160.778 lavoratori delle imprese artigiane lombarde si trova in una situazione drammatica per l'assenza di un reddito. E' questa la punta dell'iceberg, denunciata dai sindacati regionali in una lettera indirizzata al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e a tutte le istituzioni competenti. I sindacati hanno scritto «Siamo praticamente ad ottobre, la situazione è intollerabile». Secondo i sindacati, dopo aver pagato i mesi di sospensione causa Covid dal lavoro dei lavoratori artigiani da febbraio ad aprile, con intollerabile ritardo a causa delle lungaggini nei trasferimenti pubblici, si legge nella lettera al Ministro, dopo una manifestazione regionale innanzi la Prefettura di Milano che pare aver avuto qualche riscontro a giudicare dal fatto che di lì a qualche giorno è stato pagato il mese di aprile, ora la Corte dei Conti pare abbia liberato le risorse per la cassa integrazione dei lavoratori artigiani. Per quali periodi, si chiedono i rappresentanti sindacali, il mese di maggio, giugno, forse. Insomma, un clima di perdurante incertezza che ha messo in ginocchio famiglie. E dunque frustrazione e rabbia per decine di migliaia di lavoratori in tutta la regione. E' indecoroso indegno che non si trasferiscano immediatamente tutte le risorse che sono state individuate per garantire la copertura degli abortizzatori sociali. Sono inaccettabili i ritardi nelle procedure burocratiche, sostengono i sindacati. E' un appello. Le lavoratrici e i lavoratori artigiani chiedono di essere considerati e di uscire dall'invisibilità. Parliamo di case popolari di occupazione e di contrasto agli abusivi, perché il prefetto di Milano, Saccone, insieme all'assessore alle politiche sociali della regione Lombardia, Bolognini, e il vice sindaco e assessore alla sicurezza del comune di Milano, Anna Scavuzzo, insieme al presidente dell'Aler, di MM, hanno firmato il nuovo piano operativo di azione per la prevenzione e il contrasto alle occupazioni abusive di case popolari. Il documento aggiorna il precedente, che aveva lo scopo di raccordare le azioni di contrasto all'illegalità, con le azioni di assistenza e messa in sicurezza degli alloggi liberati. Nel documento è prevista un'azione di prevenzione e di riqualificazione dei quartieri Aler, investimenti per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, interventi di prevenzione e controllo dei quartieri, insieme alla tutela attiva del patrimonio e la messa in sicurezza degli alloggi. Si tratta insomma di mettere insieme gli obiettivi per recuperare le case popolari e quindi liberarle delle occupazioni abusive. E a proposito di sicurezza, la giunta regionale, su proposta dell'assessore decorato, ha approvato uno schema di accordo con gli enti locali per l'accesso al sistema integrato di sicurezza partecipato. Sostanzialmente si tratta di utilizzare una piattaforma social per incentivare i cittadini a segnalare i reati. Ma ce lo spiega meglio l'assessore alla sicurezza Riccardo Decorato. La regione Lombardia ha approvato ieri in giunta un sistema per segnalazioni che vengono fatte dai cittadini alle polizie locali sui social. E' decisivo questo sistema per la lotta alla criminalità comune ed organizzata. Così come io ritengo possano essere decisive le segnalazioni dei cittadini sui social. Quindi questo è l'accordo che è stato approvato in giunta ieri e che mette a disposizione delle polizie locali la possibilità di accedere a un sistema integrato di sicurezza partecipata che permetterà quindi di effettuare una raccolta di dati di segnalazione contro il degrado e l'insicurezza urbana derivanti dalle piattaforme social. Cambiamo argomento. È stata reportata in Italia a Milano dai ROS dei Carabinieri. Alice Brignoli, nota come la mamma dell'Isis che era fuggita in Siria con i suoi tre bambini e accusata di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Vediamo. Scusate c'è un problema tecnico, il servizio non è pronto. Andiamo avanti, parliamo ancora della pista ciclabile che parte da Porta Venezia e arriverà fino a stesso San Giovanni percorrendo tutto via Le Monza perché è stato ultimato il pezzo che riguarda Piazzale Loreto. Ebbene, c'è una segnalazione da parte di Decorato che diciamo che è il più fiero avversario di questa pista che dice ieri sera l'ennesimo grave incidente in monopattimo in Via Padova e oggi la conclusione in Piazzale Loreto del folle tracciato della pista ciclabile. Linee tratteggiate bianche, linee continue, gialle, uno spartitraffico per delimitare la corsia riservata ai ciclisti più insicura d'Italia. Uno spartitraffico del quale non se ne comprende la necessità che compare improvvisamente in mezzo alla strada, restringendo di fatto le corsie di chi si mette in rotonda d'intasando di conseguenza il traffico. Dice Decorato che in questo modo è portato a termine il folle piano di cospargere Milano di piste ciclabili concludendo così con successo l'operazione in gorgo. Così la definisce Decorato. Reu dal primo giugno 2020 ha registrato oggi 163 richieste di soccorso per incidenti in monopattimo e 649 tra caduti e investimenti per gli incidenti in bicicletta. Cambiamo ancora argomento. L'anno pastorale era appena ricominciato e l'agenda della parrocchia Beata Vergine Immacolate Sant'Antonio di Viale Corsica al 68 a Milano era ricca di appuntamenti e attività ma ancora una volta a causa del covid si è dovuto rimandare tutto. Venerdì scorso infatti il parroco fra Franco Giraldi e altri frati del convento hanno scoperto di essere positivi il covid-19 e si erano sottoposti al tampone per accettare la loro condizione. Per questo hanno deciso di chiudere la chiesa e l'oratorio di sospendere le funzioni religiosi mentre tutta la comunità che è composta da sette confratelli osserverà il periodo di isolamento. Abbiamo già fatto presente la situazione e stiamo aspettando l'arrivo di due padri che ci sostituiranno nell'ufficiare le messe durante il nostro periodo di quarantena fanno sapere i frati. L'invito ai parrocchiani è di non affollare le altre chiese del vicinato che sono già piene per le norme anti covid per non creare situazioni di pericolo. La situazione, dicono dalla parrocchia, è sotto controllo e tranquilla. I frati positivi sono tre ma tutta la comunità si è messa in isolamento ovviamente per precauzione. Per i PM che indagano su Lombardia Film Commission, gli indagati invece che i domiciliari per esigenze cautelari sarebbe stato meglio che fossero posti in carcere. Vediamo. Ribadendo le esigenze cautelari tra cui il pericolo di reiterazione dei reati come già riportate nelle richieste d'arresto e che giustificano i domiciliari per i contabili della Lega Alberto Di Rubbe e Andrea Manzoni, la procura di Milano nell'udienza davanti al riesame ha fatto notare che le stesse esigenze avrebbero potuto anche essere meglio salvaguardate dalla custodia in carcere. I PM chiesero questa misura per i tre commercialisti arrestati e il giudice decise per i domiciliari. Nell'udienza la difesa dei contabili ha parlato di congruità del prezzo del capannone mentre per i PM hanno messo in luce gli elementi del quadro probatorio tra cui il fatto che nella vendita in pratica venditori e acquirenti erano gli stessi soggetti. La procura non ha fatto ricorso per chiedere di inasprire la misura cautelare ma ha evidenziato che aveva chiesto il carcere perché così le esigenze cautelari potevano essere presidiate in miglior modo. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il PM Stefano Civardi già nella richiesta di arresto avevano messo in luce la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle istituzioni capaci di raggiungere i piani altissimi della politica. Per la difesa il prezzo di 800 mila euro del capannone era congruo mentre per l'accusa non solo era un prezzo gonfiato ma i soldi di quella vendita gestita da un lato da Diruba e dall'altro da Sciglieri e Manzoni e dall'olora o galassia di società arrivarono a società dei tre professionisti e una parte finipure in Svizzera e così i fondi pubblici del finanziamento regionale per la Lombardia Film Commission vennero drenati secondo i PM per fini privati. Si chiama Off Campus Nolo e nasce dagli spazi del mercato comunale coperto di Viale Monza 54. Si propone come luogo di incontro e progettazione tra docenti, ricercatori, studenti del Politecnico e abitanti e associazioni della zona. Tutto questo per sviluppare attività di didattica innovativa sul territorio. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza dell'assessore alle politiche per il lavoro Cristina Tajani e del rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Sentiamolo. Abbiamo aperto il primo Off Campus a San Siro. Il tema era abitare in quartieri difficili. Apriamo oggi il secondo Off Campus qui a Nolo all'interno di un mercato, tra l'altro un mercato recuperato anche nelle sue architetture perché il mercato è centro d'incontro, il mercato è vivere la città in maniera vicina e oggi dopo tanti mesi di allontanamento, di lockdown come si suole dire in questo periodo, essere vicini con le mascherine come oggi siamo ma comunque vicini e riporta sostanzialmente il valore della nostra società. Moda e sostenibilità, un connubio che sembra sempre più spesso associato e che rappresenta il futuro del settore. Domani se ne parlerà in un incontro alla Camera di Commercio di Milano. Alberto Carreras. Moda e sostenibilità sono un binomio che in futuro ci abitueremo a pronunciare sempre di più. Se Milano guarda il futuro dopo un periodo di grande difficoltà, sempre più aziende start-up sono indirizzate a fare della moda un settore innovativo rivolto al futuro con un obiettivo dichiarato di sostenibilità ambientale. Di questo se ne parla in un incontro organizzato il 30 settembre alla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con la Camera di Commercio e il Consolato Britannico. Oggi l'attenzione dei giovani imprenditori è particolarmente rivolta ai temi della sostenibilità, della circolarità, di un modo di vivere più equo e più rispettoso anche dell'ambiente naturale che è intorno a noi. Parola d'ordine, sostenibilità. Vedremo 12 start-up e 2 scale-up, tutte a trazione femminile, che ci presenteranno nuove soluzioni per trasparenza nella tracciabilità delle filiere di produzione e con un'attenzione in particolare alla produzione etica, materiali innovativi derivati da scarti alimentari per un'economia circolare nella produzione e nel ciclo di smaltimento dei vestiti. Le collezioni Ndelea sono disegnate a Milano e realizzate in modo etico a Dar es Salaam, in Tanzania, utilizzando stoffe africane. Sono poi vendute in tutta Europa attraverso il sito Ndelea.it e attraverso una rete di negozi. Lavoriamo con università e scuole di Dar es Salaam per formare nuovi talenti, futuri professionisti, che potranno a loro volta generare nuovi posti di lavoro e nuove economie nel paese. Un allargamento del Consiglio di Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano da 6 a 8 membri per scavalcare l'ostruzionismo dei due consiglieri di Regione Lombardia che hanno più volte disertato le sedute per la disegnazione del nuovo direttore, che prenderà il posto di Sergio Escobar. Sembra essere questa la soluzione trovata dagli altri soci del CDA del teatro, come recita l'ordine del giorno della seduta convocata per giovedì mattina. Nomina per cooptazione di due consiglieri, secondo il dettato di cui è l'articolo 10 dello statuto vigente. La soluzione metterebbe così in un angolo la Regione Lombardia e i suoi due consiglieri, che non riuscirebbero più a fare ostruzionismo con un consiglio allargato. Nel quartiere gallaratese, la parrocchia di Sant'Ilario Vescovo metterà a disposizione di un gruppo di minori non accompagnati degli spazi nei locali dell'oratorio, completamente ristrutturato. Oratorio che è stato realizzato a basso impatto ambientale, che quindi si può dire che sia il primo ecologico a Milano. Anna Maria Braccini. Un benvenuto in cui risuona la grande e profonda gioia di tutta la comunità parrocchiale di Sant'Ilario Vescovo, nel quartiere gallaratese, dove l'arcivescovo arriva per inaugurare i locali dell'oratorio, completamente ristrutturato, nel giorno in cui tutta la diocesi inizia il nuovo anno oratorio. In chiesa ci sono i bambini, le famiglie, gli anziani e i ragazzi, come i minori non accompagnati per cui verrà ultimato nei prossimi mesi uno spazio abitativo nei locali parrocchiali. La parrocchia e l'oratorio infatti non sono solo mura iniziative, sono piuttosto il luogo in cui tessere i rapporti. Il mondo dunque dovrebbe essere aggiustato, la città invoca di essere guarita per poter sperimentare la gioia e per questo che esiste la comunità cristiana. Prima del momento conviviale con la comunità, la benedizione dell'oratorio all'aperto, oratorio ecologico, laudato sì come viene chiamato, a impatto ambientale ridotto, con coloratissimo murales, che fa bella mostra di sé su uno dei muri esterni, realizzato da un artista di strada del quartiere. La visita ai locali in costruzione è completa, come meglio non si potrebbe, la mattinata. Accoglieremo una comunità di minori, composta da dieci ragazzi minorenni e anche un piccolo appartamento in semi-autonomia, che avrà appunto quattro posti, questo piccolo appartamento, che servirà per immettere nel mondo i 17-18 anni. Permaneranno circa un paio di anni dentro questo appartamento per poi entrare nel mondo. Tutto sarà gestito da Caritas Ambrosiana. Parliamo di minori non accompagnati. Esatto, sono minori che arrivano qui da noi non accompagnati. Se volete approfondire questo tema, vi ricordo che tra poco alle 20.15 su Chiesa TV, canale 195 del Digitale Terrestre, andrà in onda alla nostra striscia quotidiana, la Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Braccini. Era davvero tutto, mi fermo, ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo, nuova stadio Sprint e poi schierati come ogni martedì. Arrivederci. Grazie.